salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto ci prepariamo un progettino per halloween qui è vista in modo spensierato questa festa che diciamo una tradizione americana però i nostri bimbi fanno dolcetto e scherzetto si dilettano un pochino a vestirsi a travestirsi quella sera per una cosa comunque che fa sorridere ecco io ogni anno vi preparo un paio di progettini per i vostri piccoli e quindi per poterli far indossare in questo caso facciamo un teschio porta chiavi però questo teschio fa facendo una catenella o inserendolo in una collanina può diventare anche una collana prima di presentarvi materiale e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok dove cercherò con delle storie dei post e di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un piccoli in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone arancione uncinetto numero 3 e un paio di forbici prendiamo il cotone e l'uncinetto facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo e qui dobbiamo realizzare 10 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 due volte il filo sull'uncinetto entriamo sempre nel cerchio magico e lavoriamo 8 maglie alte doppie o maglie altissime quindi questa è la prima lavoriamo la seconda la terza la quarta la quinta la quinta la quinta la quinta Continuiamo con sette catenelle, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio e facciamo una maglia alta. Continuiamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, stringiamo la codina, quindi la tiriamo e ci chiudiamo, qui abbiamo 1, 2, 3, nella terza catenella con maglia bassissima. Abbiamo completato il primo giro, ora iniziamo il secondo. Ci realizziamo con una catenella, entriamo nelle catenelle, quindi all'interno, e realizziamo 8 maglie basse. 1, questa è la seconda, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Qui siamo arrivati nelle maglie altissime. Filo sull'uncinetto, entriamo non nel primo punto, ma qui, fra il primo e il secondo, e lavoriamo due mezze maglie alte. Entriamo nel punto successivo, e ne lavoriamo altre due, quindi ne abbiamo lavorate quattro. Altre due nel punto seguente, ne abbiamo lavorate sei. 7 e 8, quindi continuiamo a 2 a 2, 9 e 10, 9 e 10, sempre nello stesso punto. 2, in quello successivo siamo a 12, e qui ne lavoriamo 14, quindi 2. Abbiamo lavorato in tutto 14 mezze maglie alte, lavorandole insieme per ogni punto. Quindi diciamo al centro di ogni punto. Rientriamo qui, dove abbiamo le catenelle, e lavoriamo 8 maglie basse. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Continuiamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, e qui, in questo spazio, lavoriamo 1 maglia alta, 1 catenella, di nuovo sempre nello spazio, 1 altra maglia alta, 1 catenella, 1 maglia alta. Quindi in tutto abbiamo lavorato, 3 maglie alte, quindi la prima maglia alta, separata da 1 catenella, maglia alta, 1 catenella, maglia alta. Rifacciamo 3 catenelle, e ci chiudiamo qui, alla base, dove abbiamo fatto la catenella iniziale, con maglia bassissima. Ora, voltiamo il lavoro, e realizziamo 4 catenelle, 3, 4. Direttamente, prendiamo il filo sull'uncinetto, ed entriamo nel primo spazio, formato dalle catenelle, la prima maglia alta. E facciamo una maglia alta, 1 catenella, nello spazio successivo, 1 maglia alta, 1 catenella, nello spazio seguente, 1 maglia alta, 1 catenella, e sempre qui, tra le catenelle e la maglia alta, lavoriamo l'ultima maglia alta. 4 catenelle, e ci chiudiamo, qui, alla base, con maglia bassissima. 5 catenella, 1 catenella aggiuntiva, e possiamo tagliare il filo. Vi faccio vedere come ho fatto, eliminato il filo che abbiamo appena tagliato, la stessa cosa facciamo col filo centrale, stringiamo nuovamente il cerchio, e lo facciamo passare nelle maglie, qui, della parte centrale, quindi quelle lavorate del cerchio magico. Facciamo passare in un po' di maglie, comunque, e lo blocchiamo, così lo possiamo tagliare. Ok. Tagliamo anche questo, voltiamo il lavoro, e abbiamo terminato, guardate, la lavorazione del nostro piccolo teschio. Quindi, una lavorazione sicuramente velocissima, e soprattutto facilissima da fare. Quindi, che ne potete fare veramente tanti, li fate felici, così si preparano per questa serata, e quindi per fare il loro dolcetto e scherzetto. Spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciatemi un mi piace al video, e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto, o sulle mie pagine, Facebook o Instagram, Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre, di avermi seguita, e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.